benvenuti sul nostro canale dedicato al modellismo in particolar modo modellismo navale ma come avete potuto vedere un poco ci siamo espansi per dare a tutti la possibilità insomma di attingere delle informazioni dal mondo del modellismo la puntata di oggi è una puntata singola non appartiene a nessuna serie come ormai siamo abituati a vedere su model on passion vuole cercare un po di addentrarci nel mondo dei tamia della tamia e il mondo della tamia una un'azienda molto conosciuta che noi definiamo diciamo di un modellismo medio modellismo di media importanza media fattura che nel corso del tempo è migliorata tantissimo che ha diciamo una serie di prodotti che sono terribilmente buoni quindi sono di ottima fattura altre che invece meritano ancora qualche piccola revisione secondo il nostro punto di vista visto che noi abbiamo provato un po un po tutto abbiamo visto un po tutto e in questa puntata cercheremo diciamo riprendendo anche qualche domanda fatta da qualche nostro follower diciamo sul canale cercare di presentare il cosiddetto prodotto tamia e quindi non soltanto i colori come già abbiamo visto nella serie colori per il modellismo ma cercare un po di ampliare tutto il parco tamia per praticità all'interno dell'info box troverete la divisione del video in capitoli questo sarà un video un pochino lungo a causa insomma della quantità di di materiale da mostrare e ovviamente all'interno di questo capitolo con annesso il tempo insomma in cui si è parlato di quell'argomento vi sarà più semplice ritornare a quel capitolo a quell'argomento anziché andarvelo a cercare o comunque andare a vedere tutto il video da capo allora andando sul sito online diciamo lo shop online anche di tamia abbiamo questa schermata schermata generale appunto della tamia dove possiamo scegliere due tipi di lingue giapponese e inglese e possiamo anche diciamo capire bene i due brand tamia america e tamia europe che sono diciamo le due sottoproduzioni diciamo per l'america e per l'europa cliccando su inglese andiamo alla pagina principale che adesso ce l'andiamo a vedere con calma allora dunque una volta cliccato appunto su inglese o giapponese insomma secondo la lingua che potete più capire meglio bisogna vi ritrovate all'interno di questa schermata e all'interno di questa schermata è possibile andare ad avere delle piccole e introduttive informazioni su quelle che sono le informazioni delle novità sui prodotti nuovi, i colori nuovi e anche delle notizie o anche degli eventi per chi è proprio appassionato del mondo tamia e può tranquillamente raggiungere questi posti ma come si vede appunto nella zona di sinistra abbiamo prodotti e abbiamo una serie di pulsanti in questi pulsanti noi possiamo andare a conoscere e a capire con più esaltezza che cosa ci può interessare per andare a scoprire quello che ci interessa quindi abbiamo per esempio nuove uscite abbiamo il catalogo online i modelli in scala, i modelli in RC, Mini 4, WD, prodotti per diciamo dinamico in acqua e pubblicazioni eccetera eccetera a noi interessa il catalogo online quando diciamo si clicca all'interno del catalogo online come potete ben vedere abbiamo una serie di categorie abbiamo la categoria RC Models, abbiamo la categoria Scale Models, abbiamo la categoria For Kids quindi per bambini abbiamo la categoria degli accessori e dei colori e poi abbiamo altre informazioni quali per esempio diciamo i cataloghi oppure novità, notizie, news, pubblicazioni sempre da parte di Tamia allora ma andiamo con ordine per chi ovviamente è interessato ai prodotti RC e qui ne abbiamo una vasta possibilità e vasta scelta qui possiamo scegliere tra i 1 a 10 Tour Cars, 1 a 10 M Chases, Formula Cars, le TRF Series abbiamo anche delle versioni limitate e speciali a volte molto difficili da trovare nei negozi di modellismo ecco perché io sempre sia personalmente sia per Model on Passion vi consiglio sempre di rivolgervi prima di tutto alle case produttive e poi successivamente qualora insomma avete fiducia nel vostro negozio personalizzato poter prenderlo al negozio buggy, Seance Road, 1 a 14 Trucks abbiamo vedete altri 1 a 16, 1 a 35 Tanks diciamo che per quanto riguarda i prodotti sicuramente quelli più come dire diciamo più special, top potremmo dire per la Tamia sicuramente ci sono i carri armati perché la Tamia nasce proprio con questo tipo di prodotto e proprio perché nasce con questo tipo di prodotto che noi troviamo sia modelli sia prototipi sia diciamo colori quindi accessori e oggettistica per realizzare il modello che sono tra i migliori ok quindi sicuramente per chi è appassionato di questo tipo di prodotto quindi caro armato in particolar modo sicuramente in Tamia trova sia colori ottimali qual'altro poi man mano che si espansa nel corso del tempo è chiaro che ha dovuto aggiungere ai modelli che appunto ha realizzato altri colori ed altre forme tutto questo ovviamente ha richiesto meno studio quindi ha meno studio dietro rispetto ad altri diciamo un altro prodotto anche molto valido sono la parte dei moto Yamaha, Honda in particolar modo e poi per quanto riguarda ultimamente diciamo che troviamo molto interessanti anche i camion che abbiamo visto prima in una sezione apposita Opap Options, Tamia RC System perché ovviamente si possono anche motorizzare i sistemi per nel caso appunto del dinamico qui potete trovare tutti i tipi di sistemi che servono per il dinamico batterie e ovviamente cariche per le batterie rc parts matching list e anche il download dei manuali questa è una cosa molto utile perché spesso i manuali si perdono soprattutto quando si acquistano molti prodotti per volta può capitare di perdere il manuale e quindi qui è possibile richiederlo tranquillamente vorrei vedere, vi faccio vedere gli 1,35 tanks rc 1,35 tanks giusto per farvi rendere conto di che cosa ci si trova di fronte ecco qui in caso degli rc abbiamo tantissimi prodotti vi faccio vedere eccoli qui tantissimi prodotti e nei prodotti che appunto qui abbiamo vedete che abbiamo identificato sia l'item cioè sia l'oggetto, il codice che potete richiedere qualora non volete rivolgervi al negozio online ma volete rivolgervi al negozio specificato avete anche il codice il nome del prodotto e in questo caso non è identificato il prezzo ma il costo ma comunque quello si può tranquillamente reperire tranquillamente su internet i modelli 1,35 parliamo di modelli abbastanza grandi non sono grandissimi ma modelli abbastanza grandi e in questa categoria ovviamente è possibile andare anche avanti o anche indietro come stiamo facendo noi e prontamente ritorniamo alla schermata che ci interessa anche qui andiamo a cliccare anche i 1,14 tracks che come abbiamo detto prima sono i camion un articolo che va moltissimo ci sono tantissimi appassionati di questo genere di prodotto e devo dire che la Tamiya è migliorata moltissimo nella realizzazione di questo tipo di modello questo tipo di prodotto ce ne sono in diverse scale quindi abbiamo sia la scala più piccola che la scala più grande ma questa che abbiamo visto è la 1,14 poi abbiamo modelli in scala e qui veramente c'è di tutto abbiamo modelli sportivi il Grand Prix Collection B-Scale Racing Cars quindi le auto da corsa in scala 1 a 12 grandi auto da corsa 1 a 12 le moto 1 a 6 Big Scale Motorcycles quindi motociclette di grande scala 1 a 6 1 a 16 sempre grandi carri armati 1 a 35 miniature militari 1 a 35 carri armati motorizzati 1 a 48 addirittura abbiamo dei mini tanks advancing quindi sono particolari tipi di carri armati 1 a 48 military miniatures 1 a 32 aircraft quindi gli aerei 1 a 48 aereo 1 a 72 warbird collection eccetera 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 vedete ci sono anche dei modelli di eliche quindi propeller action 1 a 350 navi ships e così via qui abbiamo veramente un vasto tipo di prodotto e poi come vedete abbiamo anche le serie Tamiya e Taleri che ve le proponiamo ve le facciamo vedere e questi sono i prodotti che potete trovare diciamo come lavoro cooperativo tra Tamiya e i Taleri vedete questi sono dei prodotti che è possibile trovare ma comunque noi andiamo indietro se riusciamo ad andare indietro sì siamo andati indietro e andiamo vedete abbiamo anche dinosauri edizioni limitate insomma abbiamo una serie di prodotti e anche per ovviamente questo modellismo statico andiamo a vedere i 1 a 48 aircraft sicuramente uno dei dei prodotti di modellismo che più sono diciamo riscontrabili gli aerei vanno davvero sempre alla grande non hanno mai un'oscillazione negativa e qui abbiamo tantissimi modelli in 1 a 48 e anche qui noi ne abbiamo provati alcuni uno tra tanti abbiamo provato l'ITEM 61033 7marine spider 5 mkvb e anche qui i dettagli che abbiamo trovato su questo tipo di prodotto erano veramente molto interessanti e come sempre la Tamiya su questo ci ci fa divertire abbiamo prodotti per bambini che sono diciamo anche questi fatti abbastanza bene considerando sempre che sono per una fascia di età ovviamente più bassa ma ovviamente in questo caso si cura moltissimo la parte delle piccole parti che spesso viene indicato appunto sulle confezioni contiene piccole parti attenzione i bambini ecco in questa sezione in questa parte le piccole parti sono state eliminate vi faccio un esempio prendiamo il racing mini 4 wd e vi faccio vedere come ecco qui si tratta di un modello comunque non giocato e parliamo comunque di un prodotto molto ben fatto quindi al di sopra della media ma che comunque dal punto di vista della sicurezza è più affidabile poi abbiamo un'altra parte molto importante che è quella delle tools e paints questa è sicuramente una parte particolarmente interessante infatti noi andremo a sviluppare forse la parte che sviluppiamo di più in questo video tra l'altro ci è stato chiesto da diversi utenti di poter andare a discutere di ogni cosa allora che cosa produce la tammina la tammina produce tutto e produce anche tanto produce cementi e putis quindi le paste insomma per poter lavorare i cement ovviamente si identifica come colle li craft tools i cutting quindi tutto quello che serve per tagliare e per colorare il painting poi abbiamo altre attrezzature insomma utilissime anche per mantenere fermi soprattutto i lavori diorama e weathering quindi tutti gli oggetti e colori che servono per lo sporcaggio e la riduzione dei diorami i materiali per le finiture e qui potremmo parlare in un video a parte lo faremo presto ne uscirà qualcuno nuove novità insomma per quanto riguarda paint e tools sistemi per l'areografia sia quella completa sia quella un pochettino più la lit cioè quella più semplice più pratica poi i colori acrilici lucidi gloss i colori acrilici flat che stanno identificare come opachi dove per opaco non è satinato vi invito ad andare a vedere il video specifico che trovate nella playlist colori per il modellismo dove parliamo di satinato e opaco le differenze dove parliamo in più dettaglio dei colori della tamia eccetera eccetera enamel paint perché comunque è sempre lucidi perché per alcuni tipi di lavoro c'è per forza bisogno dell'enamel come tipologia e anche flat quindi opaco acrylic paint mini gloss paint mini flat sempre lucido opaco i famosissimi spray tamia color spray qua identificato diciamo in diverse categorie come ps ts as quindi le diverse tipologie e poi tamia color l'acquare paint che è possiamo noi la definiamo di model on page la nuova frontiera dei colori tamia perché ha alzato l'asticella qualitativa e anche applicativa dei colori perché il colore tamia ha delle come ho detto possiamo catalogare i colori in due categorie la prima categoria ottimi e la seconda medio bassi per la categoria generale l'acquare invece cominciamo ad avere tutti quanti una categoria piuttosto elevata e questo è un fattore importante ma dopo le andremo a vedere con calma poi abbiamo i markers gloss e flat abbiamo i spray in poligarbonato e poi abbiamo mini 4 pro markers e le serie decorative e poi ovviamente come abbiamo detto prima c'è tutta la parte delle pubblicazioni andiamo a vedere la sezione dei cementi cement e quant'altro qui abbiamo una serie di colle per le colle abbiamo quella con il tappo giallo abbiamo il poliester putti abbiamo quella col tappo verde con la punta super fine abbiamo tutti i putti abbiamo questo in caratteristica verde in scatolino verde in scatolino blu che vuol dire sostanzialmente il rapido e il non rapido anche però andando ad applicare sulla superficie infatti qua lo dice smooth surface cioè superficie morbide sicuramente per superficie morbide dove noi abbiamo più tempo abbiamo bisogno di più tempo per lavorare per non danneggiare il prodotto in questo caso quello rapido dobbiamo fare più veloce sicuramente è un articolo che va meglio il putti da mia che non è altro che diciamo questo pongo come noi lo definiamo il pongo epossidico quindi questa pasta che è molto più morbida quindi è in crema a differenza del millibut che invece è in pasta e vi dà ovviamente la possibilità di andare ad avere superfici che sono dislivellate o comunque differenti o comunque scollegate di essere poste insieme cement nel quick type abbiamo il light curing putti il Tamiya craft band il cemento il cemento rapido abbiamo insomma una serie di prodotti ma sicuramente in molti ci hanno chiesto la differenza che c'è tra il Tamiya a tappo giallo e il Tamiya con il tappo verde diciamo come extra tin allora i cementi sono pressoché quasi tutti uguali dove va a modificare la caratteristica è il tappo diciamo giallo che è il classico cement nel quale noi abbiamo il pennellino grande e poi abbiamo quelli che sono più rapidi come nel caso del tappo verde l'extra tin che sta a identificare la sottigliezza della punta del pennello e questo è importante quando noi per esempio stiamo lavorando ad un modello molto piccolo se noi abbiamo un modello d'aereo di cararmato un A72 che per alcuni parliamo di pochissimo di piccolissime dimensioni cararmato addirittura può arrivare a 9 cm in quel caso andando ad unire i punti degli elementi molto molto piccoli abbiamo bisogno di una punta molto più piccola per poter poi attingere e diciamo lavorare sul punto desiderato quindi sicuramente il cemento a tappo giallo quindi con pennello grande è ideale per grandi scale o comunque per aria e superfici molto vaste e soldifica nei tempi necessari vuol dire soldifica completamente in un paio di ore già in una mezz'ora avete una prima forma di incollaggio mentre quello a tappo verde sicuramente può essere rapido perché c'è la versione rapida quindi vi diciamo permette di incollare molto più velocemente ma comunque per quanto riguarda l'extra tin cioè per quanto riguarda il la punta dell'elemento è sicuramente utile per piccole scale tornando indietro andiamo sempre per i colori andiamo nei craft tools painting cioè appunto le attrezzature necessarie per la colorazione e qui vedete abbiamo una serie di attrezzature utili per andare a colorare colorare diciamo una serie di realtà ma andiamo avanti andiamo avanti andiamo a vedere i nostri colori e in particolar modo andiamo a vedere il diorama e weathering qui abbiamo una serie di attrezzature tanto per cominciare abbiamo le texture paint per il diorama che sono delle paste particolari nella quale possiamo andare a realizzare una serie di fondi e di basi per la realizzazione del diorama poi ovviamente abbiamo i weathering stick cioè dei piccoli pennarelli con la quale è possibile andare a creare delle sfumature e delle aree e poi dei set di cui abbiamo già parlato anche in un altro video dei set che fungono da veri e propri trucchi come potete ben vedere che vi danno la possibilità di andare a utilizzare dei veli molto sottili sulla superficie e questo vi permette di creare delle sfumature molto importanti finishing materials anche qui è possibile andare a utilizzare dei materiali per diorama per andare alla realizzazione del pavimento mascher tape polishing compound che questo ha un valore molto importante nella lavorazione di parti e superfici che hanno bisogno di un'abrasione per essere portati alla lucentezza quindi per esempio il canopino della parte alta degli aerei è possibile andarli a trattare con questo tipo di prodotto ma adesso andiamo in questa nuova parte del video a focalizzarci sui colori quindi cambiamo un po' la schermata e poi ripartiamo dunque nella sezione acrylic gloss Tamiya color acrylic paints gloss qui viene diciamo mostrata gran parte della tavolozza dei colori della Tamiya per gloss come abbiamo spesso e molto spesso identificato sono quelli lucidi o comunque che hanno una finitura non opaca e vanno ad identificarsi con il codice X vedete davanti a ogni numero c'è X1 X2 X3 e così via che sanno appunto identificare i colori con una finitura lucida questo tipo di colore cioè gli X vanno molto a diciamo riprodurre la versione in spray di TS che sono diciamo la solita versione lucida quando parliamo di lucido ovviamente non parliamo di metallizzato ma parliamo di una finitura che deve più o meno riferirsi al plastificato se invece noi andiamo a considerare la forma di figura metallizzata cioè la riproduzione di un effetto metallo non bisogna soltanto effettuare quello che è l'utilizzo dei colori X ma andare a effettuare dei passaggi successivi che ovviamente non sono oggetto di questo video ma che comunque vi permettono di realizzare queste finiture ma oggi il problema per quanto riguarda l'effetto metallico è stato diciamo abbastanza risotto con il aquare quindi come tale insomma vi consiglio di utilizzare quel tipo di colore questo colore può essere utilizzato sia a pennello che ad aerografo la diluizione dipende fondamentalmente da quello che bisogna fare e per questo io vi rimando a nel caso dell'aerografia all'aerografo facile quindi alla sezione appunto aerografia per quanto riguarda il colore alla sezione colori per modellismo e poi alla sezione se c'è già presente oppure insomma attendete che esca fuori la sezione che riguarda proprio applicazione del colore sempre sul model on passion andando verso dietro quindi facendo back ritorniamo alla sezione colori eccoli qua e andiamo ai flat per quanto riguarda appunto i flat noi troviamo la dicitura xf 1 xf2 eccetera eccetera che sta a identificare appunto le boccettine dei flat in genere i flat sono questi qua boccettini non abbiamo dimesso tra ts e as tendono ovviamente più verso la s as intendiamo gli spray ts s spray tendono quindi ad avere una finitura non satinata ma opaca cioè si va a perdere quello che è l'effetto della lucentezza della brillantezza del colore e tendono ad essere leggermente più spenti questo tipo di colore serve in particolar modo a basi a creare delle basi e in determinate realizzazioni come per esempio quelle militari hanno un ruolo davvero importante queste possono essere sostituite ma ovviamente non vi aspettate di ottenere la stessa gradazione dai corrispettivi a esse che per alcuni colori cioè quelli per esempio che noi identifichiamo militare di terra ecco quelle che per esempio possiamo andare ad utilizzare alle autoblinde ai carri armati con colori verdi verde sabbia e loro sfumature ecco in questo genere potreste trovare delle somiglianze se però già cambiamo queste tonalità vi trovate in sfumature diverse finiture diverse che sono maggiormente visibili a contatto con 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 la luce comunque questa è la finitura dei F qui se andate avanti quindi premendo le freccettine a destra e a sinistra quindi next eccetera potete trovare tutte le diciture e tutti i colori che vi possono servire stessa cosa se andiamo agli spray Tamiacolor Spray Paints vedete andando a cliccare qui abbiamo i che rispettivi TS AS TS abbiamo detto sono quelli che vi danno una finitura diciamo simil metallo simil plastica simil diciamo copertura che non è opaca e vi danno una superficie che sia più o meno che vi dà la sensazione come se fosse liscia molto liscia mentre nell'altro caso vi dà una sensazione di pannoso questa finitura è per esempio utilizzabile per navi di tipo moderno per esempio facendo un esempio pratico se io sto realizzando una base di una nave moderna utilizzo un TS spray se devo fare una colazione con la stessa TS utilizzo l'X per le boccettine se sto facendo una mimetica di un aereo sto facendo una base di questa mimetica vado a utilizzare gli XF per quanto riguarda le boccettine e gli AS per quanto riguarda invece le bombolette spray i classici spray se invece stiamo diciamo puntando sulle auto da corsa quindi gli effetti metallizzati in spray dobbiamo utilizzare i PS cioè i policarbonati mentre per quanto riguarda quelli a pennello possiamo tranquillamente interfacciarci con il mondo dei lacquer che adesso andremo a vedere facciamo back torniamo sempre alla pagina diciamo principale i lacquer paint i lacquer paint noi abbiamo definito i colori 1.2 della Tami gli LP che sono quelle finiture che vi danno una via di mezzo tra i colori diciamo lucidi cromati ma non è un cromato e il colore lucido gloss quindi è proprio una via di mezzo tra gloss cromato e metallizzato questo vi danno delle finiture e una brillantezza di colore davvero eccezionale e noi li andiamo a consigliare quando bisogna per esempio lavorare su prototipi da collezione da esposizione di veicoli auto da corsa auto sportive moto eccetera eccetera quindi questi ovviamente ne parleremo con maggior utilizzo ne maggior la specifica nel caso dell'utilizzo più avanti ancora abbiamo i markers paint markers flat e gloss abbiamo già detto la differenza vedete qui abbiamo due tipologie XF1 e XF56 del metallic grey insomma noi abbiamo modo di tranquillamente di avere una tavolozza di colori davvero davvero molto molto diciamo amplia anche qui abbiamo tutti i sistemi per l'areografia vedete ci sono sistemi specifici per l'areografia nell'areografia per quanto riguarda l'utilizzo allora per l'areografo possiamo andare a utilizzare tutti i colori tutti i colori dall'XF dall'X dall'Enamel dal diciamo dall'Aquer possiamo andare a utilizzare tutto purché si utilizzi la giusta diluzione e si vada a utilizzare il diluente specifico quindi l'Aquer per l'Aquer e così il Tamiya per il Tamiya altre case per altre case e cosa importante è la diluzione come abbiamo più volte detto e vi rimando ai video specifici che potete trovare sempre su Modelo On Passion e ne troverete anche in futuro ma la cosa più importante è cercare di capire non tanto qual è il colore per il pennello o il colore per l'areografo ma cercare di capire quello che si sta realizzando quindi se noi stiamo per esempio verniciando un aereo e stiamo verniciando un aereo di grandi dimensioni e vogliamo una superficie che sia assolutamente diciamo così omogenea allora in quel caso andate di spray di bomboletta se invece volete avere delle sfumature la bomboletta le sfumature non ve le darà quindi avrete bisogno di un aereografo il colore che andrete a utilizzare sarà sempre flat parliamo degli aerei sarà sempre flat e poi da quel flat possiamo passare ad andare oltre siamo giunti alla fine del video sulla presentazione dei Tamiya in questo 2020 ovviamente per quanto riguarda tutto lo specifico per quanto riguarda prodotto per quanto riguarda colori per quanto riguarda utensili vi invito a seguire Modelo On Fashion ad attivare la campanella insomma se volete essere informati dell'arrivo di nuovi video perché ci sarà una sezione specifica sia sui colori sia sull'areografo quindi sicuramente il discorso non è completato qui stiamo mettendo pezzi su pezzi e quindi ne vedremo delle belle perché incomincieremo a conoscere praticamente l'applicazione di tutti questi colori quindi seguite Modelo On Fashion e vi aspettiamo ciao a tutti Grazie Grazie Grazie